Periodo d'oro per Elisabetta Gregoraci. Oltre ad avere un nuovo amore l'imprenditore Giulio Fratini la subret calabrese è pronta a tornare in televisione. Stando a quanto si legge su Dago Spia l'ex concorrente del grande fratello VIP sarebbe stata ingaggiata in qualità di conduttrice per un nuovo programma in onda sulla sette legato ad un noto brand. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma qualche settimana fa Eli Greg ha parlato ai suoi follower su Instagram di una nuova avventura televisiva. Non nascondendo gioia ed entusiasmo. In qualità di presentatrice la Gregoraci manca dal piccolo schermo dalla scorsa estate. Da quando ha condotto la kermesse musicale Battiti Live. Da non dimenticare la serata di Nudi per la vita. Trasmessa su Rai 2. Anche se lontana dalla televisione Elisabetta si è data da fare in questi ultimi mesi tra sponsorizzazioni sui social network e campagne pubblicitarie. La 42enne è infatti una testimonial molto richiesta e di recente un sondaggio l'ha eletta pure come donna più sensuale d'Italia. Complice una vacanza a Dubai. Elisabetta Gregoraci è uscita allo scoperto con il nuovo amore. Giulio Fratini. I due si frequentano dalla scorsa estate e sono subito diventati inseparabili. In realtà Fratini aveva notato la Gregoraci già due anni fa. a bordo di un treno. Ma l'ex moglie di Flavio Briatore non ha mai risposto al suo messaggio. È stato così necessario un secondo incontro che ha cambiato la vita di entrambi. Classe 1992. Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i 2000 pezzi per un valore intorno ai 2 milioni di euro. a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.